Hai portato tu quell'uomo con la ragazza qualcosa di leopardo? Ah, quello è Chick. È il mio consulente per i gialli di Don Piper. Ah, sì. Cos'è? Un detective? Un poliziotto? No. È un killer. Ammazza la gente per vivere. Hai portato un omicida alla mia festa? Tranquillo, è molto discreto. Ha un lavoro perfettamente regolare come copertura. E lei di che si occupa? Di pornografia. Ecco, le do il mio biglietto. Non si sa mai. Alex, giusto? Ehi, Chick! Volevo lasciarvi un regalino per la casa nuova. Oh, che pensierino carino! È roba seria, roba di grandissimo gusto, per le copie moderne come voi. Dio, che pensiero! Grazie! Il mio numero è dentro culi di pattuglia, se ne volete altri. D'accordo, grazie. È stata una bella festa. Sì, è vero. Ho vinto anche un premio per quel film. Come va! Così? Oh! Come va!